Be safe, be rock. Beh, già lunedì scorso ti ho stupito con un nuovo sfondo per i nostri live delle Safety Rockstar, ma mi piaceva così tanto questo sfondo che te lo propongo e se ancora non lo sai è stato creato da Graziano Ventroni e è presente nella pittaria di rockandsafe.com quindi basta registrarsi, ci vogliono 15 secondi, giusto il tempo di lasciare un'email. Non c'è funnel, non dobbiamo vendere niente è lì che troviamo i veri fan di Rockandsafe e dove periodicamente ci sono contenuti esclusivi soltanto per loro quindi, che sia per uno sfondo di una videocall, per il tuo desktop o addirittura per lo smartphone troverai questo contenuto gratuito che ci mantiene il focus di quanto sia Rock a essere sicuro. Beh, parlando di Rockandsafe non possiamo parlare che di comunicazione non convenzionale fuori dalle righe e beh, gli ospiti di oggi rappresentano tantissimo questo concetto perché anche nel mondo del rock rappresentano, se vogliamo, una loro eccezione, tanto che il loro genere musicale ha un'etichetta che magari non è nel metal, nell'hard rock, ma lo vedremo insieme a loro e sono contentissimo perché non solo a livello musicale, appena li conoscerai li andrai ad ascoltare di sicuro ma i loro video sono uno più bello dell'altro e te l'assicuro e beh, se li conosci hai già capito di chi parlo, sono i Mighty in Apple Ciao ragazzi Ciao, buonasera Grazie della presentazione, grazie i Mighty in Apple sono più numerosi, però oggi cause malattie, impegne vari abbiamo una bella rappresentanza, quindi on the drums Francesco Francesco e poi abbiamo abbiamo Simone alla chitarra e ai cori benissimo, benissimo, quindi salutiamo ovviamente gli altri membri del gruppo beh, innanzitutto io ho esordito dicendo che Mighty in Apple, se vogliamo, coniano un genere musicale perché è difficile anche collocarli sebbene a me non piacciono tanto le etichette sono sincero, la musica quando è bella è bella a prescindere dall'etichetta però si parla di teen rock con voi, giusto? Sì esatto, l'etichetta in questo caso serve a uscire un attimo dall'etichetta perché generalmente quando parti anche con un album, recensioni, vieni sempre catalogato in qualcosa necessariamente, anche come hai detto te, basterebbe dire mi piace, non mi piace invece non si cerca di, somiglia a questo, sembra quello nel tempo ci siamo resi conto che veniva diciamo carpita la nostra necessità della ricerca di personalità e noi abbiamo lanciato questa corda del teen rock che è stata presa molto bene dalla critica e questo diciamo ci definisce, ci personalizza, ecco non è che ci classifica ma ci personalizza tutto qua. Bene, bene, comunque appunto a prescindere dall'etichetta fate dei brani bellissimi fra l'altro insomma avete un bel curriculum in carriera addirittura con una finale di Sanremo Rock quando è che nasce la vostra esperienza e fra l'altro è l'eredità di altre esperienze? Ah sì, esatto, ma il tutto, dammi una volta di commento se sbaglio qualcosa è nasce nel 2012 e ovviamente è nato dalla band di Checco insieme a Massimiliano che se lo chiamo che sarebbe il bassista, tastierista e pianista e tutto e poi praticamente poi si è aggiunto anche Gianluca che è il cantante e poi io e da lì ci siamo resi conto che il mondo della fantasia è un qualcosa che comunque ci accomunava e da lì è nata diciamo la voglia di creare più che altro sì di portare il nostro mondo all'esterno quindi per questo che Mighty in Apple magari uno si domanda che cosa significa no? Che comunque Apple è una mera quindi questa figura che si trova sia nelle favole che comunque nel nostro mondo è Tin che sarebbe Latta, riferimento è l'uomo di Latta quindi il nostro mondo magico che vi esponiamo anche non solo musicalmente ma anche visivamente beh perché i vostri video sono proprio magici nel vero senso della parola veramente un inno alla creatività ragazzi completamente dai costumi alle storie sono veramente un piacere, sono dei mini video no? mini storie, mini film da dover... anche la progettazione è quella del film perché ci vuole tantissimo eh immagino, fra l'altro ce lo dicevamo prima di accendere le webcam tutta farina del vostro sacco questo è proprio il caso, anche proprio tutta la costruzione del video beh insomma avete creatività da vendere sì, quello sì, abbiamo le idee chiare e abbiamo molto da dire sarebbe bello crescere sempre di più stilisticamente ma anche a livello di situazioni e questo è molto difficile per quanto riguarda sia i live, sia tutto quanto che il livello professionale va raggiunta ma non è sempre merito radica quindi è molto difficile potersi esprimere al meglio però noi non ci diamo mai per vinti quindi l'importante è fare un lavoro alla base fatto bene, che ci convince poi qualcosa di buono viene fuori per forza sotto questi criteri beh di sicuro ecco voi che avete questa bella fortuna ovvero una grande creatività che poi esprimete attraverso la vostra arte che ne pensate della relazione fra l'essere umano di oggi, adulto e la creatività? come si è ammessi? fra l'altro hai detto anche delle parole che poi raffigurano anche un nostro singolo che magari poi ne parliamo dopo insomma ma cosa possiamo dirti? possiamo dire che comunque la creatività viene fuori sicuramente sì ora ci sono tanti input dai media da un monte di cose alcune volte basta proprio essere curiosi essere curiosi nel cercare proprio dentro se stessi e da lì insomma e non giudicarsi e tirar fuori quello che ti senti quindi viene proprio dalle tue emozioni ecco quindi senza giudicarti e da lì che nasce le cose quello che penso siccome anch'io sono un appassionato di creatività che a parte il fatto che sia un dono incredibile perché ci permette di sviluppare un sacco di idee scusate la titubanza perché stavo pensando che dono secondo me non è nemmeno un'espressione proprio esatta perché poi se vogliamo tutti abbiamo una bella dose di creatività che magari creiamo una corazza esterna per tutta una serie di vicissime il dono e la fortuna è aver la possibilità di sfogarla diciamo bravo così mi piace molto tutti possiamo avere ecco la pulsione poi chi riesce a razzolare nel campo dell'arte diciamo può liberarsi può liberarsi senza contare che chiunque è sognatore anche chi ha progettato un aereo prima di essere un ingegnere è un sognatore voglio dire quindi sì la magia esiste è in mezzo a noi e il creativo è differente magari dal sognatore perché questi sogni in qualche modo li materializza e voi insomma con le vostre storie i vostri costumi ecco ovviamente insomma una storia di dieci anni è una storia lunga i brani sono tanti insomma voi siete presenti su tutte le piattaforme ma soprattutto andate a vederli su youtube almeno vi godete bene i loro video anche se altre piattaforme ce l'hanno c'è un filo conduttore che in qualche modo può legare a una bella corona di Irlande le vostre canzoni c'è un qualcosa cos'è che vi spinge a scrivere? ma allora innanzitutto sono la mettiamola così il nostro punto di vista è questo che soprattutto oggi questa realtà viaggia a una velocità assurda che inghiote che porta via che non ci permette di essere diciamo noi stessi le nostre canzoni alla base hanno un qualcosa di quotidiano hanno aspetti reali della vita quotidiana soltanto visti in chiave fantastica ovvero cavolata a me mi è capitato a volte da facciarmi alla finestra e vedevo una signora sbatteva il tappeto mi sono immaginato che aveva fatto tardi la sera il tappeto e lo brontolava ad esempio però tutto questo a volte ci può aiutare a vedere le cose in un altro modo ad alleggerirle a superarle come se ti vesti da cosplay ti senti un supereroe quindi non pensiamo che sia tutto futile perché anche parlare dell'ordinario sembra una cosa assurda una storia d'amore una canzone d'amore mi manchi mi manchi quante volte l'abbiamo sentito dire mi manchi anche troppe tipo noi abbiamo una canzone del secondo album si chiama Two Shoes che parla di due scarpe che vengono separate e quindi è un aspetto molto anche allegorico metaforico esatto esatto è una chiave diversa semplicemente una chiave diversa il filo conduttore è questo poi abbiamo una cosa che secondo me non ha sottovalutare che proprio anche la creatività e la fantasia ci permette anche di alleggerirci perché ti hai parlato di pesantezza forse uno dei problemi più sentiti magari anche come dire peggiorati dalla pandemia quello che abbiamo vissuto è questo senso di pesantezza e poca leggerezza che c'è nell'aria quindi insomma sviluppiamo questa creatività fra l'altro sono molto curioso di parlare di quello che è l'ultimo single insomma di qualche mese fa che è Highlander perché ora ora vi spiegherò il motivo prima voglio sapere di cosa parla Highlander prego Highlander è diciamo un po' uno spin off del genere Mighty Nepple perché è stato per noi un'esperienza ganza toscanamente ganza perché diciamo abbiamo conosciuto un'associazione dilettantistica di corse per automobili che con quello che facciamo noi non c'entra niente se non l'aspetto adrenalinico questo presidente diciamo era molto colpito dalla nostra musica e ci chiese scrivete un brano per il nostro trofeo che si chiama Trofeo Highlander perché no quindi ci siamo gettati in questa nuova esperienza cercando di avvicinare il nostro mondo a quello delle macchine e questo è il risultato e nel video abbiamo appunto un po' di tutto abbiamo anche una scuola di falconeria che fa d'annesso tra il mondo diciamo un po' gotico e magico e la velocità delle macchine usando dei falchi insomma quindi questo è diciamo lo sviluppo del brano Highlander beh perché di gotico e se vogliamo di Tim Burton un po' di sapori se ne notano se ne notano parecchie beh e per il Mighty Neckwall esistono persone che sono Highlander che sono invulnerabili invincibili eterne i creativi i nostri fan i nostri fan vabbè questa questa è una leccata ce la possiamo permettere una volta ogni tanto la domanda è che il problema del nostro cioè del nostro mondo il mondo anche vostro cioè che ci appartiene è che tante volte no che siano poi un incidente stradale o fregarsene di certe cose sul lavoro fino a farsi male fa pensare che le persone pensano di essere invincibili in realtà di invulnerabile non c'è proprio nessuno se non insomma quello che viene dalla fantasia però lasciamolo al mondo della fantasia perché poi non tornare a casa è una cosa che non possiamo privare né un figlio che deve tornare a casa né un padre o un madre che deve tornare a casa dal lavoro infatti siamo qui a parlare di fantasia e creatività perché dobbiamo sorridere la vita e proprio per questo onorarla e rispettarla e andare al concerto successivo ovviamente è bravo bravo quello che dico sempre a me piace tantissimo andare ai concerti voglio andarci anche il giorno dopo e quindi in mezzo ci deve essere un ritorno a casa e per poi andare beh ultimamente singoli singoli che insomma di tanto in tanto ci fate ascoltare nel 2023 ci aspettiamo qualche nuova sorpresa sì esatto ed è per questo che non vi svegliamo niente però siamo veramente abbiamo tante cose in cantiere tante collaborazioni possiamo citare stiamo lavorando veramente a un nuovo singolo uscirà non un album ma intanto un singolo che vedrà come regista il nostro amico Senio Firmati che è il regista di Giovane Principe Highlander e The Sound of Silence quindi andiamo con lui verso il quarto video e un'associazione di diciamo che si chiama Ombre d'Arte associazione culturale che praticamente portano il gotico in Italia ci siamo diciamo incontrati e sono tantissimi personaggi e c'è la volontà di collaborare insieme e risultato credo venga splendido perché hanno dei costumi veramente esagerati dai dai fantastico e quindi noi siamo connessi ai vostri canali per vedere al più presto appena verrà pubblicato e anzi lo metteremo questa è una promessa che vi faccio a livello personale lo metteremo il vostro nuovo lavoro in home page Rock'n'Safe perché ci piace tantissimo e tutto il nostro mondo di fantasia che ci regala leggerezza riflessione e perché no insomma ancora di più amore per la vita grazie ragazzi è stato davvero un vi chiedo un'ultima cortesia facciamo un regalo ai nostri spettatori e quindi ce lo vogliamo vedere il video di Giovane Principe e guardiamolo perché no allora come diciamo sempre al termine di ogni in trasmissione noi ci vediamo la prossima settimana e mi raccomando be safe be rock Giovane ciao grazie la giacca di pane corta alle braccia niente più fili ma lividi in faccia dimmi chi sei che cosa vuoi la vita porta guai supererai supererai quella storia dei miracoli come fa un giovane principe che non sa più che non sa più il naso più lungo è quello del mondo la verità dorme sul fondo quello che sei quello che fai è tutto ciò che hai non pensare mai che sia facile non pensare mai di essere fragile supererai quella storia dei miracoli come fa un giovane principe che non sa più chi è pensarei a quella volta che è successo a te è così che fa un giovane principe che pian piano supererai quella storia dei miracoli come fa un giovane principe che pian piano diventare come fa un giovane principe che pian piano diventare che pian piano diventare che pian piano diventare Tu lalurururu, tu lalurururu